E' ancora in corso l'esame autoptico sul corpo di Lorena Paolini, deceduta domenica scorsa nella sua abitazione di Contrada Casone a Ortona, in un quadro investigativo ancora tutto da chiarire. L'incarico è stato ufficialmente affidato questa mattina al medico legale Cristian Dovidio, che in primis, già la mattina del 18 agosto, aveva effettuato una ricognizione cadaverica sul corpo della 53enne, concentrandosi sul solco evidente che la donna aveva sul collo, ipotizzando il decesso per strangolamento. Una traccia che ha portato gli inquirenti a escludere la morte per cause naturali e per gesto volontario, anche alla luce della scena del ritrovamento del corpo. L'esito dell'autopsia, effettuato questa mattina all'obitorio del Policlinico Santissima Annunziata di Chieti, servirà dunque a confermare o escludere l'ipotesi di omicidio su cui la Procura della Repubblica di Chieti ha aperto un'inchiesta. Ieri, negli uffici di Via Spaventa del capoluogo Tiatino, si è tenuto anche l'interrogatorio investigativo di Andrea Ceri, marito di Lorena, al momento indagato per la morte della moglie. L'imprenditore funebre di 51 anni ha risposto in maniera collaborativa alle domande del PM Giuseppe Falasca, accompagnato dal suo legale l'avvocato Maddalena De Gregorio, entrando da un ingresso secondario della Procura per eludere l'attenzione della stampa presente ad attenderlo. Elementi in più, per chiarire l'accaduto, arriveranno anche dall'esito della consulenza informatica sul cellulare della 53enne, che servirà a ricostruire gli ultimi contatti della donna con persone eventualmente coinvolte nella sua morte.